E' iniziata la tre giorni di Save the Mural, un evento dedicato al restauro di quest'opera in Piazza Mancini a Diamante, voluta dall'assessorata all'ocultura del Comune di Diamante, che ci ha in qualche modo incluso in questo progetto, volendo fortemente il restauro di quest'opera di Bino Lafauci, è stata realizzata in occasione del Giro d'Italia del 2005, rappresenta la storia della nostra città, le sue tradizioni, momenti storici più importanti della città di Diamante. Proprio per l'importanza dell'opera e per la lunghezza, perché è stata ed è tuttora l'opera murale più lunga mai realizzata a Diamante, e proprio per questo col tempo si era deteriorata e stiamo cercando in qualche modo di far rivivere i colori di questa splendida opera di Bino Lafauci. Grazie. Grazie.